Ehi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Ho iniziato a fare un po' di competitive, giusto un po', in zero build. E proprio oggi vedrete la mia scalata da Bronzo 4 fino ad Unreal. Lasciate like, commento, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Andiamo. Il primo game non è che si è andato benissimo. Io non ho proprio la più pallida idea del sistema di punti di questa ranked. Dai, ma sono bot, twist. Ma sono già morto, che finora è merda. Ma Gold 1 in base a che cosa? Però ho poi iniziato a prenderci la mano. Vabbè, è stato molto più semplice di quanto mi aspettassi, posso dire. Il bloom è veramente magico, vabbè. Ok. Vabbè. Sì, sì, vai, piazzone quante vuoi tu. Tanto voglio dire. Buona mamma mia, mi ha tirato una laggata. Brother, dovresti spararmi. Sparare. Vabbè, ci è arrivato. Ci è arrivato. Ragazzi, una partita imbarazzante. La peggiore partita che abbia mai giocato nella mia vita in questa season. Ok. Ed era più o meno il minimo. Cosa? Una win mi ha alzato a gold, c'è? Sì, la prima win era fatta, ma c'era da passare da oro 2 ad Unreal. Tutto il processo l'abbiamo fatto giorno per giorno sul sito viola, sul mio canale. Infatti ora vi mostrerò solo le partite di quando eravamo già in champion, quindi quando le lobby sono cominciate ad essere un po' più serie. Madonna quanto cazzo era forte questo. Haa... ahhh 11% 11% ma qua di onore strano come in sta zona qualche volta non si butti quasi nessuno ciò qua sto lutando con una tranquillità che in pubblica non avrei mai vabbè problema risolto non 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 Io credo che questo sia il miglior game che io abbia mai fatto nella mia vita. Come devo fare? Mi serve un passaggio? Eh lo so, è brutto, no? No, no, per cazzo. Beh guido io, dai! Un altro giorno, un altro victory for D.O.G. Faccio schifo, sono 3000. La real era finalmente stato raggiunto, ma ora c'era un altro obiettivo, quello di provare ad arrivare in top 1000. Beh, quello non sono propriamente riuscito a farlo bene, però comunque sono riuscito a portare fuori delle ottime partite. È strano che qui si fermino poche persone, comunque, questa cosa non me la spiegherò mai. Anzi, ferma quasi nessuno. C'è sta zona? Non l'ho capito. Il blu mi sa che vuole aprire la porta. Perché escono sempre a farmi così tanto danno? Io non capisco. Qu dentale. Ho! Grazie a tutti. Vinta la mia prima partita in Unreal. Quanto abbiamo fatto? Di quanto siamo saliti? 2600. Madonna che si è creato. Uh, quello è forte ragazzi. Quello è forte, si è portato un bel po' di percentuali a casa. Eh, fratello, è andata male, mi sa. Ma qual è? Come ho fatto a pensare che quella di venire qui fosse un'idea intelligente? Qual è stato quel processo mentale che mi ha fatto dire ma quasi quasi mi metto dentro al palazzo di Rebel Boost? Quale? Perché? Via gli occhiali, no, polpidi. Questa piccola parte della mia vita si chiama rubare kill a caso. Questa piccola parte della mia vita si chiama rubare kill a caso. GG, GG. 2300, ma che mi ha dato di 200 posizioni? Insomma è stato carino, dai ma la socca va da bene. C'è ancora tanto da fare, un giorno potremo iniziare le build. Ma intanto vi ricordo, like, commento, condividetevi e soprattutto iscrivetevi al canale altrimenti perderete i prossimi video. Attivate la campanellina. Ciao belli!